Mobilità sociale intanto significa la possibilità di salire delle classi sociali, cioè usare l'ascensore sociale per salire dei piani. La mobilità sociale è direttamente collegata al tema della disuguaglianza. Infatti sappiamo che delle società diseguali sono spesso anche quelle dove c'è poca mobilità sociale, dove in un certo senso l'ascensore funziona male, dove quindi se nasci povero rimani povero, se nasci ricco rimani ricco.